Dopo la vittoria contro Caserta in casa, la New Basket Agropoli non sbaglia neppure in trasferta durante il turno infrasettimanale contro Reggio Calabria, vincendo la gara disputata nella serata di ieri, 72-78. Il risultato finale, una gara controllata fin dal principio dai cilentani nonostante gli infortuni, la fase a orologio prosegue domenica prossima quando al pala di concilio di Agropoli la squadra di casa ospiterà Avellino, appuntamento alle ore 19. Coach Lepre è euforico e entusiasta dei suoi ragazzi, è andata bene, dice, nonostante gli acciacchi i ragazzi hanno fatto tutti uno sforzo in più che ci ha portato sempre a controllare la partita fin dall'inizio, limitando i loro terminali offensivi che erano sugli esterni. Sono molto soddisfatto perché stiamo giocando bene nonostante l'infermeria piena, Pechic e alle prese con problemi alla caviglia, il quale con la fasciatura ha stretto i denti per aiutare i compagni. Cordici ha dato forfè poco prima della gara, Borrelli ha accusato un dolore alla caviglia durante il match. Migliore in campo Giuseppe Lepre che ha siglato ben 27 punti. Coach Lepre ci tiene a precisare, sono contento della prestazione di tutti perché a turno c'è un protagonista, segno che con la società ci abbiamo visto lungo quando abbiamo creato la squadra e Suavellino sta lottando per i primi due posti nel proprio girone, quindi confido di poter recuperare gli infortunati perché domenica sarà un'altra battaglia.